L'amministrazione comunale di Seggiano, attraverso l'Albo Pretorio Online, rende noto che nel parcheggio coperto non custodito di Piazza Portello, sono disponibili al terzo livello inferiore numero 9 posti auto da assegnare in concessione annuale. I posti auto riservati ai cittadini residenti non saranno assegnati alle vetture alimentate a gas GPL. Per usufruirne, inoltre, bisognerà pagare una concessione annuale di 480 euro all'anno, da corrispondere in un'unica rata anticipata. Tutti i cittadini interessati all'assegnazione di un posto auto dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo disponibile sul sito internet comunale all'indirizzo www.comune.teggiano.sa.it o presso l'ufficio servizi tecnico-manutentivi. Al modulo di domanda, inoltre, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia della carta di circolazione delle vetture per le quali è richiesta la concessione. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo comunale entro le ore 12 del giorno 13 febbraio 2013. L'ufficio preposto predisporrà apposita graduatoria delle domande pervenute in funzione dell'ordine progressivo di protocollo assegnato. Le domande eventualmente presentate, oltre il termine stabilito, saranno soddisfatte nell'ordine cronologico di presentazione. Qualora, a seguito dell'esaurimento della graduatoria, risultino posti disponibili.